Permettetemi di iniziare il commento a questa bellissima finale di Champions League con una citazione di Enzo Iannacci quelli che con difesa a 3 o a 5 non si vince la Champions League e invece abbiamo visto che si può vincere anche in Europa se c'è una squadra costruita bene, se c'è un'organizzazione di gioco, se ci sono idee nuove, se c'è un bravo allenatore tutto questo può portare alla vittoria e alla fine di questa bellissima finale vince la squadra meglio messa in campo la squadra con più idee, la squadra che questa sera tra l'altro è scesa sul terreno di gioco con maggiore tranquillità perché si è visto fino alle prime battute che Manchester City rispetto ad altre prestazioni era indubbiamente più bloccato ha sentito di più la partita e questo sommato ad alcune scelte di Guardiola che si sono rivelate sbagliate ha prodotto una partita da un tiro solo in porta nel primo tempo praticamente il Chelsea vince grazie come dicevo alle idee, all'idea di un allenatore sicuramente innovativo un allenatore che ha, possiamo dire in un certo senso, inventato questa sorta di 5-2-3 col quale il Chelsea si è schierato nel primo tempo contro il 4-2-4 di Guardiola e che ha vinto con merito perché ha preso una squadra in corsa, perché l'ha risistemata, le ha dato fiducia le ha dato solidità difensiva e ha vinto con merito questa bella, bella, bella finale è stata una partita veramente molto bella, è stata una partita che ha un po' anche ai noi mostrato quanta differenza ci sia ancora tra il calcio europeo e il calcio italiano di tante squadre velocità, ritmo, movimenti, velocità d'esecuzione, qualità naturalmente perché in campo c'erano giocatori molto importanti, ci sono giocatori di grande qualità e anche di grandissima quantità come Golonkante che anche questa sera ha fatto una partita eccezionale dimostrando di essere uno forse in questo momento il migliore interprete del suo ruolo che è un ruolo di interdizione ma è un ruolo anche di caccia dell'avversario. Nel Chelsea c'è stata tanta attenzione all'inizio della partita dove si presupponeva un avvio diciamo tambureggiante del Manchester City e invece sostanzialmente la prima frazione è andata via sull'equilibrio, anzi il Chelsea ha avuto da subito più occasioni, sbagliate tutte da Timo Werner il quale poi è stato bravo in occasione del bel gol sull'imbeccata di Mount a creare lo spazio per l'inserimento di Kai Havertz, lettura sbagliatissima della difesa del Manchester City. Ederson si è trovato a metà strada, non sapeva se rimanere in porta, se uscire, ha scelto l'istinto, ha scelto di seguire l'istinto, è uscito e Havertz lo ha superato. Vantaggio meritato in quel momento perché al Manchester City non è riuscito quasi nulla per aver concesso il centrocampo sostanzialmente al Chelsea, per essere andato sistematicamente a sbattere contro una difesa molto ben registrata anche dopo l'uscita di Thiago Silva che poteva essere un elemento diciamo disfunzionale dei meccanismi difensivi di Tuchel. Invece in pochissime occasioni, solo nel secondo tempo, si sono fatti prendere alle spalle in un paio di incursioni, principalmente con Sterling e mi pare una volta con Gabriel Jesus. Nel primo tempo c'è stata l'unica idea di Kevin De Bruyne in tutta la partita, una partita amara, una partita terminata tra l'altro con un colpo che l'ha costretto a uscire addirittura dal campo, letteralmente, con un occhio nero, in una serata veramente poco felice dove non è riuscito a trovare spazi, dove non è riuscito a incidere, dove non è riuscito a collaborare con i compagni di reparto che questa sera si sono proprio nascosti. Parlo di Mares, parlo di Bernardo Silva, nel primo tempo anche Foden ha fatto tanta fatica, Sterling è stato l'unico che ha cercato di dare un po' di profondità senza però combinare un granché. Nel secondo tempo Guardiola ha risistemato la squadra, ha messo Fernandinho a centrocampo, questo sommato a un Gabriel Jesus, quindi con un riferimento centrale, un Foden più libero di muoversi, un Gundogan più immerso nella costruzione e non nell'interdizione come nel primo tempo, gli ha permesso, se non altro, di schiacciare il Chelsea che inevitabilmente, vuoi per la stanchezza col passare dei minuti, vuoi per un atteggiamento che comunque nasce anche dalla grande consapevolezza di quanto fossero uniti nel difendere, fossero uniti come squadra e sapessero esattamente cosa dovevano fare. Nonostante questa pressione, nonostante tutto questo, resta sempre un solo tiro in porta e con un solo tiro in porta è molto difficile contro una squadra che ha difeso molto bene questa sera come il Chelsea andare a fare gol. Tra l'altro una cosa simpatica è che appena è uscito Timo Werner c'è stato quel pallone lanciato per Pulisic che se ci fosse stato Werner forse avrebbe potuto sfruttare meglio, ma in ogni caso Werner è come dire l'unico giocatore del Chelsea diciamo tecnicamente sotto la sufficienza anche se poi in realtà ripeto il movimento che ha fatto in occasione del gol è un movimento importante perché libera lo spazio. Il Chelsea dicevo ha vinto con questo strano 5-2-3 con questa linea di difesa dove James e Chilwell andavano molto ad aiutare i tre difensori cioè Rudiger, Thiago Silva e lo straordinario Azpilicueta. A centrocampo c'era Giorginio che gestiva i palloni in uscita e Kanté che gestiva tutto il resto perché veramente questa sera era ovunque a recuperare palloni, a impostare perché poi Kanté non è solo recupera palloni, Kanté ha anche tanta qualità in fase d'uscita. Poi c'è stato il miglior Havertz della stagione a dimostrazione che può diventare davvero un campione perché quando tu incidi in partita di questa sera e non solo per il gol ma in generale per la tranquillità anche lui con la quale ha giocato questa sera vuol dire che ci sono dei bei presupposti. La stessa cosa per Meso Mount che però è un giocatore già più consolidato in questo calcio. Tutto questo ha funzionato bene perché la squadra ha sempre mantenuto le giuste distanze tra i reparti, è sempre riuscita nel primo tempo ad annientare ogni idea di passaggio del Manchester City il quale non è mai riuscito praticamente a fare quegli scambi veloci, a mettere palloni pericolosi in aree anche perché con una difesa così ben schierata i riferimenti offensivi che Guardiola ha costruito nell'ultimo periodo di quale abbiamo parlato anche questa mattina si sono completamente persi contro appunto questa linea difensiva perfetta più Kanté più Giorginho che comunque ha dato una mano anche lui in fase difensiva. E lì Guardiola nel primo tempo non è venuto fuori, ha provato a far muovere alcuni interpreti, ha provato in alcuni casi a mettere Zincenco più in mezzo al campo per cercare di liberare spazio sulla sinistra, poi ha provato a spostare Stedding, poi ha provato a spostare De Bruyne, tutto senza alcun costrutto. Nel secondo tempo, ripeto, con una squadra più logica perché adesso non lo so se Rodri non stesse bene fisicamente ma rinunciare contro un Kanté e un centrocampo che diciamo in alcuni momenti, soprattutto all'inizio della partita è stato a due, rinunciare Rodri a centrocampo ed equilibrio che lo Spagnolo dà è stato un peccato questa sera ma anche lo stesso Fernandinho avrebbe potuto dare più consistenza in mezzo al campo dove sono stati persi tantissimi due anni e in tutta la partita in generale il Celesi ha avuto molta più aggressività nell'andare a contrastare il pallone, è stato molto più bravo a farlo perché poi non serve solo la garra ma ci vuole anche la qualità nel taker, la qualità nel contrasto e in generale ha vinto tutte le idee che c'erano sul tavolo sono state vinte dal Celesi. Tu che l'ha costruito veramente una vittoria importante perché è una vittoria che dimostra come ho detto all'inizio idee, organizzazione e anche fantasia perché ripeto questo 5-2-3 è qualcosa che non si era visto spesso. Invece strutturato così, costruito così, con la dedizione di tutti gli uomini e poi anche con la tranquillità con la quale i giocatori sono scesi in campo dimostrano che l'allenatore ha fatto veramente un bel lavoro non solo a livello tattico ma anche a livello mentale riuscendo a liberare dalla pressione i giocatori di Celesi molto più di quello che Guardiola è riuscito a fare con i suoi. È vero che la pressione stava più dal lato di Guardiola e del Manchester City per tutto lo storico perché comunque doveva essere la fine ideale di un percorso di costruzione di una squadra e di un progetto, Guardiola che comunque è dal 2016 seduto sulla panchina del Manchester City quindi sono un po' di anni che la cosa va avanti. Stasera ha sbagliato, stasera ha sbagliato la formazione iniziale, questa sera non è riuscito a costruire delle idee alternative, non è riuscito a preparare la partita bene, capita, capita anche ai più grandi naturalmente e il Celesi vince con grande merito una bellissima partita per intensità, per ritmo, per tattica, per gli interpreti in campo, per la grande qualità. È stata veramente una bella partita che credo abbia riconciliato con un certo tipo di calcio, l'augurio che ha fatto Marianella in telecronaca di vedere presto le squadre italiane può raggiungerne forse solo una, siamo un po' indietro ma chi lo sa che cosa ci riserva il futuro. Buonanotte a tutti.